Ciao a tutti da Saludatore, ecco qui mi trovo la straordinaria Michelle Castiello, radio.bonna Sì, ciao a tutti Ecco, allora io ti chiedo qualche anteprima, qualche news Allora, il palinzesto non lo svelo, perché non lo posso dire Però la news, la propria scritta è che la posso dire Che tra poco Napoli, Milano è diventata Pink E forse anche Napoli Ah, ecco, diciamo niente La dico in solo a tutti i fan tuoi e della radio Un saluto e un bacio dalla Pinkerito Ecco qui, ti ringrazio e la manina del Saludatore Ciao